Dobbiamo puntare al volo, come siete messi a volo? Puntiamo la lunghezza, va bene? Io credo un po' di sottopasso perché mi vedo malissimo là sopra Scansa di Omar, scansa di io, ho paura che arrivino qua dentro Per cui signore e signori, diamo il via al volo della KG Karashe! No, tanto, 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 tanto!